domani sera al palo mazza non ci possono essere risultati scontati quello che succederà cambierà la storia del calcio italiano perché perché se la juve non vince contro la spalla non vincerà suo ottavo titolo consecutivo e vabbè su questa cosa qua praticamente rimanderà la vittoria la prossima settimana perché comunque sappiamo che sono molto concentrati adesso sulla champions infatti giocheranno con la squadra b anche se dire che la juve abbia una squadra b non è proprio la cosa il termine giusto perché hanno una squadra delle riserve che sono veramente forti perché avremo king e di ballo in attacco solo questo ci fa capire l'importanza di questa squadra che ha fatto degli acquisti ha fatto un mercato veramente incredibile e se vincerà questo titolo è solo per merito e al di là delle polemiche al di là di quello che si dice beh domani sarà sold out al palo mazza lo stadio della spalla sarà pieno a tifare e cercare di aiutare al meglio le proprie squadre la spalla deve vincere perché la spalla sta lottando per non retrocedere sta lottando per non andare in quella maledetta serie b pensate che allegri ha già allenato la spalla cioè la spalla è stata proprio la prima squadra di allegri in serie c1 quindi te pensa il destino te pensa che secondo me non è un caso che proprio domani allegri secondo me portando almeno un punto in tasca prenderà questo titolo cosa succederà beh non lo sappiamo chiaramente non siamo chiaro di gente almeno io non lo sono ma sappiamo bene che la spalla giocherà senza regini giocherà senza curtis che valotti che non stanno bene forse curtis riuscirà ad essere in campo vedremo però la spalla comunque non è al meglio e sappiamo che la juve vorrà chiudere subito questo campionato perché ha la testa sulla champions è arrivato ronaldo è arrivato un giocatore che porta con sé tanti titoli tanti gol in champions e l'ha fatto anche in questo campionato italiano e quindi questa volta non ci sarà perché proveranno a vincere il titolo domani senza le prime linee infatti ha chiamato id quasi sicuramente anzi sicuramente non ci sarà in campo come cian come chiellini perché saranno poi giocatori protagonisti dalla in champions quindi domani lo stadio pieno 13 mila persone a tifare queste due squadre però gli uomini di semplice sai sono molto concentrati perché nelle ultime partite hanno fatto molto bene e anche ha portato a casa risultati importantissimi quindi la juve deve stare attenta perché la juve deve rimanere concentrata ma sappiamo che in questi casi quando deve vincere un titolo entri in campo nei migliori dei modi quindi secondo me i tifosi della juve possono stare tranquilli che almeno l'atteggiamento giusto la squadra di allegri avrà poi se vincerà o meno non lo vedremo domani ma comunque sappiamo che comunque andrà il titolo ce l'ha già in tasca e mi sembra una cosa impossibile che che accada anche non accada la vittoria della juve questa spa però è pericolosa perché ha dei giocatori che possono colpire non sono fenomeni sono giocatori della juve però possono fare anche un ottimo risultato quindi la juve deve rimanere concentrata dovrà sicuramente risparmiare tanti giocatori per partite di champions però entrando con di balekin per esempio in attacco avranno comunque un attacco di peso e forse anzi sicuramente un attacco che anche più in forma rispetto a quello tra virgolette titolarissimo ci vediamo al prossimo video mi raccomando scrivete qui sotto secondo voi chi vincerà e ci vediamo presto